Benvenuti nel mio canale, siamo di nuovo con voi per le notizie da tabloid. Non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al mio canale. Dopo esserti iscritto per essere informato di tali più velocemente non dimenticare di premere il pulsante di notifica, le strade di Leila e Ates si incroceranno. La nuova serie di canal di Ia Cox Everson sta contando i giorni per la trasmissione. Il progetto, interpretato da Karen Bursin e Afsan Orsan Kaktoutan, sarà sullo schermo con il suo primo episodio giovedì 6 luglio. È uscito il poster di Ia Cox Everson con Karen Bursin e Afsan Orsan Kaktoutan. Kubra Sulun scrive la sceneggiatura del progetto, che incontrerà il pubblico con il suo primo episodio giovedì 6 luglio su Canal D, mentre Ali Bilgin siede sulla sedia del regista. La serie racconta la storia dell'incrocio dei percorsi di Ates, Bursin, che non si fida di nessuno, e Leila, Sankatoutan, che non ha mai conosciuto la sua vera famiglia e ha guadagnato denare ingannando le persone. La produzione include anche nomi come Atice Aslan, Serif Erol, Cemre Ebuzzia, Nasmi K.R.K. Cosa ne pensi della nuova serie di Karen Bursin e Afsan Orsan Kaktoutan e se ti piacesse così tanto? Cosa ne pensi di questo video? Non dimenticare di dirci i tuoi pensieri nei commenti. Era così nelle nostre notizie, se ti piace, premi il pulsante mi piace e non dimenticare di iscriverti. Ciao e ci vediamo al prossimo video!